bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo lungo forse video non ne ho idea io sono xyuder e volevo condividere con voi un momento molto importante del level up di questa season di forte ovvero sia il raggiungimento del livello 260 che vuol dire in poche parole nitroglicerina completamente d'oro e sky tanto ringraziamo chicco dado che ci sta dando una mano e notiamo anche una bellissima renegade che appunto darà la possibilità di avere la nostra skin sky da fare d'oro e quindi ragazzi ringraziamo anche iris intanto che ci sta dando una mano molto perfettamente e molto rapidamente manca una briciolina di level up lo condividiamo insieme lo guardiamo incrociamo le dita e attenzione ed eccolo qua signori livello 260 in questo momento il che mi fa pensare una cosa quitto e vediamo e vediamo perché perdere tempo quando puoi quittare attenzione incrociamo le dita anche dei piedi non fatelo che vi vengono i crampi attenzione signori sky trova la tua più grande avventura fa parte del set amici di incarico si può colorare d'oro un grande risultato equipaggiamo sky salutiamo la maialona ragazzi no 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 la nitroglicerina e gli mettiamo il suo backpack no direi di no perché è veramente inguardabile quindi ragazzi livello 260 preso tanta roba si vola verso il livello 300 io vi ringrazio per avere guardato questo video così i ragazzi che mi stanno guardando i live su twitch non scappino perché andiamo avanti a livellare ciao ciao